Ok, tutto è pronto, un'occhiata al cronometro e si può iniziare. Prova a venire in avanti Sabotic, vede Maltese, Maltese, beh il pallone questo per Arma, che entra in area di rigore, Arma, il tiro, gol di Arma! Sul lancio di Maltese, il gol di Arma! Arma, quinto minuto di gioco, Reggiano avanti, 1-0, lancio perfetto di Maltese, tutti i giocatori ad abbracciare Arma. Eccolo qua, il lancio, guardate Arma come anticipa tutti, si porta avanti il pallone, poi di esterno destro mette dentro. La finta, Arma non ha giocato per siega questo pallone. Bruccini, prova Bruccini il destro, pallone che termina abbondantemente sul fondo. Il fischio dell'arbitro, il tiro per Illy, non aggancia e poi spedisce sul fondo Caridi. Mogos può andare al traversone, ecco effettuato, c'è una deviazione, sfugge il pallone al portiere, angolo, l'arbitro non lo farà battere. E di fatti non lo fa battere, è scaduto il tempo. Stefano Giovani di Porto, Santo Stefano di Grosseto, fischia il via alla ripresa. Sbagliato il tocco però per Bartolomei, ma un rimpallo lo favorisce. Bartolomei ancora va a mettere in mezzo e siega! Manca clamorosamente il gol del 2 a 0. Ci arriva Bruccini, attenzione Bruccini ha il destro, si, provaci! Pallone che termina sul fondo. Caridi, Caridi ancora, Caridi ancora, Bruccini, il tiro di Caridi, pallone oltre le reti di protezione. Il fischio dell'arbitro. Il tiro contro la barriera, ancora momentè, pallone che termina abbondantemente sul fondo. Assolutamente regolare, arma converge, ancora arma, prova il tiro da distanza siderale. Pallone buttato via. Con il numero 4 esce Bartolomei, con il numero 16 entra Angiulli. Applausi per Bartolomei. Ungaro. Bello, molto bello questo tiro da parte di Momente, la parata di Perilli. Giulli prova col sinistro, carica male. Gennone, tiro, gol! L'autorete, l'autorete di Gavazzi e la Reggiana porta a casa tre punti da Mantova. L'autorete di Gavazzi, tutti ad abbracciare Colombo. Il dottor Taglia, Zanetti, Parola, sono andati tutti ad abbracciare Colombo. Il tiro di Giannone e Gavazzi cerca, con il colpo di testa, di rinviare il pallone. Termina in gol. Pallone buttato avanti. Non perdere la concentrazione adesso. Non perdere la concentrazione per Illi, salva su Anastasi. Prova, carica al sinistro, il tiro per Illi senza problemi. È finita in questo istante, è finita in questo istante e la Reggiana batte il Mantova per 2 a 0. Dopo 5 minuti.